Musica Telespettatori di Video 33 ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo questo telegiornale con la cronaca. Sequestro record di droga alla barriera autostradale di Vipiteno, una pattuglia della Guardia di Finanza. Ha fermato due albanesi che stavano trasportando 93 chili di cocaina purissima del valore complessivo di 18 milioni di euro. Ma vediamo tutti i dettagli nel servizio di Sergio Braghini. Un vero colpo da 90, anzi da 93. Tanti sono i chili di cocaina purissima sequestrati dalla Guardia di Finanza alla barriera autostradale di Vipiteno. L'operazione si è svolta all'alba di ieri, quando una pattuglia delle fiamme gialle della tenenza di Vipiteno ha fatto accostare una Ford Kuga con targa germanica proveniente dalla Brennero con a bordo due persone. Ad insospettire i finanzieri, oltre all'atteggiamento nervoso dei due, lo strano ribassamento che si notava nel retro del piccolo SUV apparentemente vuoto. E invece ad un minuzioso controllo effettuato presso un'officina di Vipiteno è saltato fuori un congegno elettrico posizionato nel vano bagagliaio, in grado di aprire l'alloggiamento destinato alla ruota di scorta sigillato ermeticamente, dove i militari hanno rivenuto la bellezza di 83 panetti di droga, pari a 93,1 chili di cocaina purissima del valore di circa 18 milioni di euro. Si tratta del quantitativo di cocaina sequestrata più alto nella storia dell'Alto Adige. Superiamo i 93 chili di una cocaina, il cui grado di purezza dai primi livelli di controllo che abbiamo fatto è assolutamente molto molto elevato. Quindi il colpo che abbiamo inferto senz'altro al traffico internazionale è importante. Ma il tutto si inquadra non in un'attività legata al caso, ma un controllo costante e continuo di quelli che sono gli interessi nazionali, al di là di quelle che sono le situazioni di controllo della frontiera, ma questo è proprio un qualcosa che incide sulla qualità del sociale. Provenienza e destinazione della droga? Stiamo lavorando su questo. I due che erano a bordo dell'autovettura sulla quale abbiamo operato sequestro sono cittadini albanesi, la provenienza è dal nord Europa. La qualità del prodotto ci farà capire da dove vengono e anche quelli che erano i mezzi di comunicazione, 3-4 cellulari che avevano a seguito più altre documentazioni, ci permetteranno di capire e inquadrare. I due uomini a bordo dell'auto sono stati arrestati con l'accusa di trasporto internazionale di droga. Si tratta di due cittadini albanesi di 36 e 42 anni, praticamente sconosciuti alle forze dell'ordine e che non hanno opposto resistenza. No, un attimo di sconcerto. Hanno forse sottovalutato la pericia tecnica dei miei uomini, che sono riusciti a non cadere su quelle che erano le loro giustificazioni, alla presenza di modifiche interne all'autovettura che sembravano essere state fatte in fabbrica. Un congegno elettrico consentiva di accedere ai vani sotto il bagagliaio in cui era nascosta questa sostanza che apparentemente non era assolutamente rimovibile. Visto il notevole quantitativo di droga sequestrata e il contesto internazionale, le indagini proseguono a cura del gruppo di investigazione criminalità organizzata e del gruppo operativo antidroga della Guardia di Finanza di Trento. Rimaniamo alla cronaca di quattro feriti e danni ingenti il bilancio di un furioso incendio che ha divorato un piano dell'agriturismo Zviglhof a San Candido. Il rogo ha divampato poco prima delle 19 di ieri e subito sul posto si sono portati i vigili del fuoco volontari di San Candido, Dobbiaco, Prato alla Drava, Sesto e Versiaco. Costretti a lavorare ad una temperatura di 17 gradi sotto lo zero, i pompieri sono riusciti a circoscrivere l'incendio al solo secondo piano. Quattro persone in stato di sciocca hanno riportato leggere ferite e sono state trasportate all'ospedale di San Candido. Gravi danni riportati dal Maso, una delle strutture storiche della Valpusteria da oltre due secoli di proprietà della famiglia Burgmann. Sul posto per un sopralluogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano che escluderebbero il dolo o la colpa grave attribuendo l'origine dell'incendio ad un problema all'impianto elettrico. Cambiamo argomento, il referendum sul progetto Benco potrebbe svolgersi ad inizio aprile, al voto anche sedicenni e residenti fuori Bolzano ma che lavorano nel capoluogo. La consultazione non prevede quorum e non sarà vincolante. Si svolgerà con tutta probabilità tra fine marzo e i primi di aprile la consultazione sul progetto Benco per la riqualificazione di via Alto Adige a Bolzano. Si tratta del primo referendum organizzato in base all'articolo 60 dello Statuto Comunale che permette il voto sia ai sedicenni che ai residenti fuori Bolzano che lavorano in città. La consultazione potrebbe durare anche una settimana e la data più probabile del suo inizio appare quella di sabato 2 aprile che consentirebbe di rispettare i tempi previsti dalla legge che sono 45 giorni di preavviso e 30 di campagna elettorale. Le circoscrizioni cittadine sarebbero utilizzabili per ospitare le assemblee pubbliche e informative. Come è precisa il commissario straordinario Michele Penta la consultazione non prevede alcun quorum e non sarà vincolante. La decisione finale dovrà tener conto anche delle sentenze del TAR sui ricorsi. In un unico dossier i giudici amministrativi condenseranno sia il ricorso contro Benco della cordata concorrente Emozioni Alto Adige sia quello della Signa che prevede l'annullamento della seduta consigliare in cui il suo progetto venne bocciato solo per un voto. Signa contesta il fatto che a quella votazione aveva partecipato l'allora assessore Luciano Giovannelli fino a poco tempo prima portavoce di Emozioni Alto Adige e dunque in palese conflitto di interessi. Passiamo alla cronaca giudiziaria. Si riapre il contenzioso legale che vede protagonista Cicu il presunto gatto pardo sequestrato in Val d'Ultimo. L'ex proprietario ha dato mandato al suo avvocato di tentare il tutto per tutto in Cassazione per riaverlo e riportarlo a casa. Tenterà l'ultima carta, quella della Cassazione Herbert Reich il proprietario di Cicu, il presunto gatto pardo individuato e sequestrato in Val d'Ultimo. Reich, condannato per la detenzione non autorizzata dell'animale ritenuto pericoloso, ha dato mandato al suo legale l'avvocato Flavio Moccia di impugnare il verdetto in Cassazione. Sostiene di essere troppo affezionato all'animale e tenterà il tutto per tutto pur di riportarlo a casa. Ad essere contestato è il risponso scientifico sulla natura dell'animale. Le risultanze processuali hanno dimostrato però, si legge nella sentenza, che il felino, chiamato Cicu, è un serval puro sangue. L'avvocato Moccia ritiene invece di avere qualche spazio di intervento proprio in Cassazione. Quello che interessa la famiglia Reich è di riprendersi l'animale. Il condensioso legale dunque si riapre. Nella prossima notizia ci spostiamo a Trento all'insegna della massima incertezza e lavori in Consiglio regionale. All'ordine del giorno la modifica della legge elettorale con particolare riferimento a novità nelle regole del voto a Bolzano. L'aula è chiamata a esaminare il disegno di legge dell'assessore regionale competente Sepp Nugler sul quale incombono i circa 4.700 emendamenti presentati a scopo ostruzionistico dall'opposizione. Al momento non pare si possa arrivare ad un accordo da dire che Dieter Steger della SVP non ha presentato stamani l'annunciato emendamento teso a ridurre da 45 a 35 il numero di consiglieri comunali nel capoluogo. Merano continua ad essere penalizzata dalla provincia con costanti tagli sui trasferimenti finanziari. La denuncia arriva dalla giunta comunale della città del Passirio che oggi ha presentato il bilancio di previsione annuale e triennale. Bastano pochi numeri per spiegare il disagio della giunta comunale di Merano quando si parla di soldi che dovrebbero arrivare ma non arrivano dalla provincia. Quando ho iniziato a fare l'assessore cinque anni fa avevamo 23 milioni di gettito quasi 24, oggi siamo arrivati a 12 milioni. La provincia imposta dei criteri che secondo noi sono certamente molto più favoribili ai comuni piccoli rispetto ai comuni grandi. Sia chiaro, hanno spiegato il sindaco Roescio e l'assessore alle finanze Zaccaria. Quello di Merano non è l'unico comune a dover fare i conti con pesanti tagli nei trasferimenti dalla provincia ma la misura dei medesimi tagli è difficilmente giustificabile per Merano. Perché è una città che è in crescita anche in maniera importante sul profilo demografico e quindi continuiamo a spiegare che noi abbiamo necessità di investire che abbiamo una città che si sviluppa che fa un servizio peraltro per tutti i paesi del burgraviato e quindi non comprendiamo per quale ragione la provincia continui a favorire i comuni piccoli rispetto a comuni più importanti come Merano e Bolzano. Il bilancio 2016 della comune di Merano pare già quota 81 milioni di euro e tecnicamente propone una novità. La novità particolare è quella che noi possiamo soltanto progettare e riservare dei soldi se prima abbiamo i soldi e abbiamo un progetto molto chiaro. Cioè anni fa si poteva dire vogliamo una scuola abbiamo bisogno di una scuola intanto riserviamoci dei soldi. Questo adesso non si può fare bisogna avere le idee chiare che anche bene. Gli investimenti più consistenti riguardano l'ambito scolastico a partire dal milione e mezzo di euro per la nuova scuola elementare di Sinigo a seguire molti altri interventi grazie a 40 milioni di euro di avanzo delle precedenti gestioni che si sbloccheranno una volta approvato in primavera il bilancio consuntivo. Ci occupiamo di viabilità e trasporti è stato rinviato lo sciopero del personale dei treni previsto per domenica 24 gennaio in tutto il Trentino Alto Adige le organizzazioni sindacali avevano proclamato lo stato di agitazione per otto ore a causa delle diverse problematiche legate ai turni di lavoro e alla gestione delle ferie dopo lunghe trattative nella riunione di ieri data nella quale l'azienda ha tentato un ultimo tentativo di mediazione per evitare lo sciopero si sono registrate delle aperture e il confronto è proseguito in maniera positiva. Tutela degli animali è stato elaborato dal consigliere Urzi un disegno di legge provinciale che in sede di commissione legislativa non è stato sdoganato ma che ha comunque aperto un importante dibattito sulla materia. No all'uso di pungoli elettrici sugli animali divieto ad utilizzare animali per l'accattonaggio o per gli spettacoli circensi. Questi sono solo alcuni articoli del disegno di legge provinciale sulla tutela degli animali elaborato dal consigliere provinciale di Alto Adige nel cuore Alessandro Urzi e presentato recentemente in commissione legislativa. La proposta di legge che andrebbe a coprire un vuoto normativo non ha ottenuto il parere favorevole della commissione ma ha comunque aperto un costruttivo dibattito su un argomento di indubbio interesse e che poi approderà in consiglio provinciale. Riteniamo però anche che si debba ritenere l'animale uno strumento importante per aiutare l'uomo. E allora non esiste oggi una organizzazione in provincia di Bolzano della pet therapy cioè della cure delle terapie con gli animali. Si è visto come invece questo tipo di offerta spesso risolva problemi importantissimi di ordine così comportamentale ma talvolta anche patologico in alcuni casi di autismo per esempio. E allora io credo che insomma margini ce ne siano per lavorare meglio e di più a favore degli animali e pensando anche agli uomini. Sono poche le realtà provinciali che hanno una normativa sulla tutela degli animali e nella DDL di Urzi è prevista anche una sorta di assistenza sanitaria o meglio assistenza veterinaria. Quindi insomma ci sono cose importanti da fare pensiamo anche all'istituzione per esempio di un fondo di assistenza costerebbe veramente pochi euro ma un fondo di assistenza per garantire alle persone e alle famiglie con meno disponibilità economiche la possibilità di far curare con cure salvavite intendiamoci non stiamo parlando di terapie di un certo tipo e diverse i propri animali quando colpiti per esempio da situazioni che potrebbero portarli alla morte. In ogni caso la discussione è stata aperta ed ora come detto la palla passa all'assemblea legislativa provinciale. Si chiude oggi CARES The Ethical Chef Days la manifestazione ideata dallo chef stellato Norbert Niederkufer che per alcuni giorni ha radunato in alta badia i più importanti chef del mondo e professionisti del settore con l'obiettivo di confrontarsi sulla gastronomia sostenibile condividendo un approccio innovativo ed etico del cibo approccio condiviso anche dalla special beer Brower Eiforst che ha deciso di sostenere l'evento nel corso dell'Ethical Gala organizzato all'hotel Rosalpina lo chef Norbert Niederkufer ha preparato il piatto d'apertura utilizzando la Fort Sixtus come ingrediente creazione che sarà riproposta anche nei ristoranti Forster Broi l'intenzione dell'azienda Forst di Foreste è di diffondere i principi di una cucina etica anche attraverso i propri locali ed ora ci fermiamo per un brevissimo break e poi torneremo in studio con lo sport rimanete con noi Quali sono le sfide che il mondo dell'economia dovrà affrontare nei prossimi anni in Alto Adige e la politica sa tradurre in adeguate soluzioni i bisogni dei cittadini delle cittadine e delle imprese come cittadini vi sentite realmente ascoltati Claudio quali risposte potremmo ricevere dai nostri ospiti lo scopriremo insieme nelle prossime puntate di Economia nelle nuove puntate di Economia Economia per saperne insieme di più vi aspettiamo su Video 33 Allora eccoci nuovamente in studio siamo giunti allo spazio dedicato allo sport e ci occupiamo del campionato Ebel in particolar modo dell'Hockey Club Bolzano perché nel giorno della qualificazione diretta al pick round e ai play off l'Hockey Club Bolzano Foxis ha siglato un importante accordo con Alperia nuovo main sponsor della formazione di hockey bianco-rosse i dettagli sono stati resi noti in conferenza stampa questa mattina A poche ore dalla sua prima partita nella cosiddetta pick round in programma venerdì all'Inz nel campionato Ebel l'Hockey Club Bolzano con il suo amministratore delegato Dieter Knola ha siglato un accordo pluriennale con Johan Wolfhardt direttore generale di Alperia la nuova società energetica altoatesina nata dalla fusione tra aziende energetiche e SEL i dettagli dell'accordo sono stati resi noti questa mattina all'Hotel Laurin di Bolzano Alperia è la quarta multi utility del nord Italia terza per produzione da fonti rinnovabili ed è il secondo main sponsor a fianco del marchio Alto Adige della società di hockey su ghiaccio Bolzanina che ha vinto più titoli nella storia dell'Hockey in Italia e sostenere l'Hockey Club Bolzano nel campionato Mitele Europeo Ebel per Alperia è stato un passo quasi logico Alperia è una nuova società che va lanciata sul mercato altoatesino e ha bisogno di tanta visibilità visibilità abbinata alle emozioni come le può dare lo sport è sicuramente uno dei mezzi migliori per creare questo grado di conoscenza della nuova società Alperia in questo territorio dove noi operiamo Un accordo che permetterà alla formazione bianco-rossa di trovare ed avere per così dire nuove energie Sportivamente siamo forti economicamente abbiamo fatto il primo passo grande con un partnership come l'Alperia però non è finita dobbiamo lavorare e trovare dieci co-sponsor che ci promettono di navigare in acque più tranquilli che fino adesso chiaramente sono sempre un po' il mare è un po' mosso e questo voglio arrivare dai bilanci equilibrati e anche poter promettermi o permetterci di avere delle strutture più professionali vuol dire che nell'ufficio dell'Hockey Club sono persone molto validi competenti che possono lavorare tutto l'anno per l'Hockey Club City Hall Ed in vista della partita di venerdì contro il Linz squadra che appare forse la più attrezzata per conquistare il titolo Ebel arriva a un invito particolare ai tifosi e ai telespettatori di Video 33 dall'amministratore delegato di Tercnol posso già comunicare che avremmo l'Inz la partita di venerdì già l'Inz Bolzano una diretta con il nostro partner della Rosengarten Group con Video Bolzano 33 dove chiaramente la partita viene in casa dei nostri tifosi che i tifosi che voi ripetono sono più solo di Bolzano ma tutto Alto Adice perché abbiamo tifosi dal Resia fino a Dobbiaco fino a dal Breno fino a Salorno e questo penso che i tifosi sono molto contenti se ricevono una trasmissione diretta grazie anche al gruppo Rosengarten dove io chiaramente mi presto volentieri di dare tutte le posibilità che il Rosengarten può trasmettere in diretta per queste partite dell'Hockey Club Bolzano City Roll Alto Adice e allora appuntamento da non perdere su Video 33 con la diretta all'Inz Hockey Club Bolzano venerdì con inizio alle 19 con Rosengarten Hockey Night con questo è tutto anche per lo sport ora diamo lo sguardo alle previsioni meteo il flusso delle correnti in quota si disporrà dal nord ovest apportando masse d'aria piumite verso le Alpi i valori termici tenderanno a risalire inizialmente soprattutto in montagna nel pomeriggio il tempo sarà soleggiato su gran parte del territorio la pressione tenderà ad aumentare con correnti in quota dal nord ovest per giovedì durante il mattino le nubi si dissolveranno anche sulla cresta di confine ed il tempo sarà soleggiato con cielo sereno nelle vallate a settentrione in particolare in Alta Venosta e Alta Valle di Sarco soffierà il Fön venerdì dominerà ancora il sole salvo qualche nube alte in arrivo da ovest verso sera sabato non si escludono deboli nevicate a nord mentre verso sud si alterneranno sole e nubi per domenica e lunedì si prevede tempo abbastanza soleggiato con solo nubi innocue in cielo ed è tutto anche per questa edizione prima di salutarvi volevo ricordarvi come sempre il nostro indirizzo internet www.video33.it vi ricordo che attivo anche il nostro profilo facebook un'informazione che riguarda ancora la nostra programmazione vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 20 e replica alle 22 con la trasmissione economia come in studio ci sarà Claudio Corrarati presidente di CNA Alto Adige e altri ospiti tema della puntata casa clima clima house a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento e di una buona giornata grazie